Il doppio incidente nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio sulla provinciale 60 in Valle di Chi. Due moto sono scivolate in una curva, per cui l'una dall'altra, ma nel stesso posto. Sono intervenuti la roccia bianca del Canavese, l'acqua ciorossa di Liberlo Canavese, l'acqua ciorossa del Castellamonte e il riso a corso del 118. Il bilancio è di quattro feriti, la più grave una donna che è stata ritrasportata all'ospedale CTO di Torino, mentre l'uomo che era sulla moto con lei è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Ferita in modo lieve anche la donna che era sull'altra moto e che è stata portata in codice verde all'ospedale di Brea. Qualche scoriazione per la quarta persona coinvolta, un uomo che ha rifiutato il trasporto all'ospedale.